Ciao a tutti. Sono tornato per un altro video. E in questo video, ti mostrerò come eliminare un elenco di Twitter. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Per cominciare, avvia la tua applicazione Twitter. Successivamente, tocca il tuo profilo nella parte in alto a sinistra dello schermo. Quindi tocca le liste. Da qui, tocca l'elenco che desideri eliminare. Nel mio caso, ne ho solo uno, quindi dovrò eliminare questo proprio qui. Ora tocca in modifica elenco. Qui, tocca semplicemente delimina elenco in in basso. Se sei sicuro, tocca semplicemente delimina. E abbiamo finito. Grazie per aver guardato.